Ah, quindi anche il tempo è alta scuola. Vabbè! Il sinistro, ragazzi, non è, ma il sinistro ogni volta bisogna inserirlo, bisogna bloccarlo e rientrare. Bisogna fare un passo indietro e rientrare. Ma c'è tutta quata novità, c'è tanta dispensa che possiamo fare con l'altra gente. Sì, sì, sì. Eh, bravo, 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 bravo. Ok, cambio coppie, via, veloci, veloci! Veloci, che faccia? Dai, dai, subito. Vai, togli. Eh, stella. Ah, vai, non parlate, lavorate. Oh, non lo dà sinistro, cazzo? No, si entra nella mano sinistra. In qualsiasi quaglia. Il cambio quaglia macchina è l'unico che deve lavorare. Adesso, quaglia, adesso? No, 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 deve cambiare quaglia permanente. Non può. Non può cambiare, però, sempre la mano l'avanti che deve lavorare, tolto. Vai, muovo il busto. Muovo il busto, alzù la mano. Ragazzi, Anatoly, perché se ne fanno ancora? Paolo e Anatoly, vieni alla fine. Ok, la prima, ragazzi, la prima portina è libera. Non, 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 non. Bravo, 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 bravo. Tempo! Tempo! E' giusto? Eh, sì. Cambiamo le coppie, facciamo solo per il suo vento. Non lo faccio, 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 non lo faccio. E' ancora la mano indietro. Stop! Ho capito? Impariamo a fare anche i sei... Ora prima, lì, adesso. Ma qual è la prima riga? Guardate, guardate, oh, ragazzi, anche da questa posizione, destro. Sposta la gamba adesso, dietro. E' destro, quindi, impariamo a trovare... Pa, pu, pa, tutto. Ok, impariamo a trovare fessi a poste, ragazzi. Ma via, letto. Cerchiamo di cambiare cosa, però, eh. Dai, via! Ma ragazzi, giusto, importante, molt' tanto giusto. Mano alta. Riccardo, a piazza, per favore, se forse non ci ne metto, non ci fa la gente. Stila male, ma... Tosso, che giro. E' le mancine. E' un tipo d'alti, ha un tipo d'alti, ha un tipo d'alti, da un po' d'alti, ha un tipo d'alti, ha un tipo d'alti. non lo vede non andare indietro. vada a un altro giro Lui ancora sta fallando, forza dentro e fuori usa bene le mani, usa bene il busto cambio coppie, via veloce, non cambiamo sempre i stessi quattro la prima volta, non lo so, non stiamo rispondendo si mando qua dai ricky grazie 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 grazie